Ci troviamo a Villa Medici, l'Accademia di Francia a Roma, all'interno dello studiolo del Cardinale Ferdinando, un padiglione segreto che serviva per i suoi appuntamenti più discreti. Il soffitto dello studiolo è meravigliosamente dipinto da Jacopo Zucchi, tra uccelli esotici e animali rari. Questo soffitto racconta in effetti un mondo appena scoperto, cioè l'America. Questo ambiente più piccolo e intimo dello studiolo di Ferdinando probabilmente serviva da camera da letto ed è decorato da splendide grottesche sempre di Zucchi, che non soltanto raccontano elementi come i venti e le stagioni, ma ci offrono un ritratto per e proprio dell'evoluzione della costruzione di Villa Medici. E in fondo vediamo invece un progetto mai realizzato di scalinata monumentale che doveva collegare la villa al Campo Marzio, un'idea che fu poi ripresa quasi due secoli dopo con una scalinata all'eternità dei monti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!